In collaborazione con Il mondo delle sagre e delle fiere agricole Torna in presenza in tutta Italia Ariolo Terme, Agriolo 8, 9, 10 aprile Noi vi anticipiamo alcuni ingredienti Del territorio a partire Dalla frutticoltura specializzata Ma anche la regina delle foraggere L'erba medica Intanto nel cuore verde d'Italia Si sta preparando Agriumbria Anche qui qualche anticipazione Soprattutto relativo Alla chianina Infine ci spostiamo in Liguria Dove la coltivazione dell'olivo E la produzione dell'olio Hanno radici antiche In Lambrusco parleremo di questo Rosso frizzante Che caratterizza i territori emiliani Ne parleremo 360 gradi L'annata è appena iniziata Le potature sono terminate La siccità è incombente Ma parleremo anche di un provvedimento Che è stato preso a livello europeo Per tutelare questo prodotto Che poteva essere minacciato Da una sorta di contrapposizione Che c'era riguardo ai vini E alla loro possibile pericolosità Siamo a Riolo Terme Per anticipare alcuni elementi Che caratterizzeranno la futura fiera In presenza a Griolo 8, 9 e 10 aprile In puntate precedenti In annate precedenti Vi abbiamo raccontato L'asotecnia del territorio I prodotti tipici Il paesaggio Oggi facciamo fuoco In particolare Sulla frutticoltura specializzata E anche su molte novità Del settore Già ve lo anticipo Kiwi rosso Non il verde Non il giallo Ma questa nuova varietà Che peraltro È arrivata in Italia Non da tanto Perché era il 2015 Quando fu raccontata All'Expo di Milano Siamo con Claudio Dalpane Vivai Camagri Allora Come mai questa scelta? È partito tutto Dalla protezione Dalla varietà Dalla batteriosi Dalla PSA E poi ci siamo accorti Che mettendo il kiwi sotto serra Abbiamo avuto Dei miglioramenti Anche qualitativi Della frutta Un risparmio idrico E anche se possiamo dirlo Meno uso di trattamenti Fitosanitari Ecco Voi siete un vivaio E questo kiwi rosso Poi dove va a finire? Perché voi lavorate Le tante altre varietà Anche iward E quello Gold Già da oltre 40 anni Mi pare Come i vai? Allora il pioniere È stato mio padre Maurizio Che ha iniziato da molto giovane Quando è arrivato il kiwi in Italia L'iward Noi iniziamo con la creazione Della piantina in vivaio Facciamo l'accrescimento La consegniamo ai nostri produttori Le nostre piante escono Se sono in vasetto Che hanno circa 6-8 mesi Altrimenti con 1-2 anni Che sono astoni Che l'anno dopo Possono iniziare a produrre Se si parla di kiwi rosso E seguiamo tutta la parte tecnica Di consulenza Di tutto quanto Quello che riguarda l'accrescimento Fino ad arrivare alla produzione E con gli ultimi investimenti Di quest'anno Arriviamo anche alla lavorazione Diretta della frutta Specialmente del kiwi rosso Comunque voi fate anche esportazione Non siete solo a livello nazionale No, noi facciamo esportazione Anche oltre Europa E stiamo arrivando anche in Africa E in questo momento La fase vegetativa Di queste piante sottoserra A cui tra l'altro Prestate tantissima attenzione Perché chiaramente È un momento importante Allora, in questo momento Possiamo già vedere i germogli Nella fase di tre foglie Con il bottoncino floreale Qui È una fase abbastanza delicata Perché abbiamo ancora Delle temperature rigide all'esterno Però con l'utilizzo del telo Abbiamo visto che riusciamo A contenere circa Tre gradi Tre gradi e mezzo Senza attuare Nessuna Nessuna tecnica Antibrina Ecco, avete anche l'uso Delle candele Mi diceva prima Sì Dall'anno scorso Abbiamo fatto delle prove Con candele Che funzionano a pellet Che hanno una durata Circa di otto ore Con dieci chili di pellet Questo è nato dal fatto Che c'è anche un discorso Di asfissia radicale Se noi irrighiamo troppo Abbiamo le piante Che ci vanno in crisi In questo modo Riusciamo a limitare L'utilizzo di acqua E quindi anche un benessere Della pianta Oltre che effetto Anticongelante C'è un'espansione Del kiwi rosso Perché era stato recepito Come grande novità Poi una battuta d'arresto In questo momento In questo momento È in forte espansione Anche perché Sia nel kiwi giallo Verde Ma anche nel kiwi rosso Abbiamo dei buoni prezzi In campagna Per il produttore E poi Purtroppo Abbiamo adesso Questo problema Delle materie prime Che costa un po' L'impianto Però Vediamo che c'è Una forte espansione Della cultura Le caratteristiche di coltivazione Del kiwi rosso Rispetto alle due varietà Diciamo precedenti È una pianta più rustica È una pianta più delicata Ha poca che vedere Col kiwi verde Innanzitutto Perché qui siamo In ambiente protetto Come dicevamo prima L'utilizzo dell'acqua Durante specialmente Il periodo estivo È del 45-50% In meno Perché non abbiamo vento E non abbiamo evapotraspirazioni Qui sotto Quindi c'è un notevole Risparmio idrico Poi dopo Abbiamo tutte le operazioni Della potutura verde Dell'impollinazione Perché qui sotto Siamo in assenza Di piante maschili Quindi dobbiamo fare Assolutamente L'impollinazione artificiale Poi abbiamo Tutto il discorso Del diradamento Perché sono varietà Molto fertili Fino ad arrivare Alla potutura verde Nei mesi estivi E alla raccolta Che in questa specifica varietà Viene fatta in casse Ecco E tra l'altro La produzione È maggiore Rapporto frutto-pianta Rispetto alle altre varietà Sì Fruttifica molto di più Rispetto alle altre varietà E abbiamo dei produttori Che stanno facendo Dei notevoli quantitativi Con ottime qualità per ettaro Siamo circa 50 tonnellate per ettaro Bene A questo punto Lasciamo questi 4 ettari Di kiwi rosso Coltivato in serra E però prima Vogliamo anche dire qualcosa Su questo kiwi particolare A striature rosse Un sapore dolce Amabilmente zuccherino Nella polpa naturalmente Ricorda nel sapore Un pochino Le ciliegie Le fragole di bosco Anche le pere Un profilo nutrizionale Molto interessante Un eccezionale contenuto Di vitamina C 100 grammi Contengono quasi 200 milligrammi Di questa vitamina Il doppio rispetto Ad esempio Al kiwi verde Poi tanti sali minerali Ferro Fosforo Calcio E potassio Addirittura più Delle banane Dalla frutticoltura Specializzata Alle colture In campo aperto E in questo caso Parliamo di foraggere La regina delle foraggere L'erba medica Lo facciamo con Roberto Scozzoli Che è direttore A Pimai E anche responsabile Commerciale Per quello che riguarda Il mondo continental Allora diciamo che questo covid Per due anni Ha condizionato pesantemente L'andamento dei mercati E anche se l'erba medica Non entra direttamente Nel circuito alimentare Ci rientra In quanto Alimentazione Appunto per quello che riguarda Le bovine Le stalle E quindi Ha risentito anche Del calo Dei prezzi Per quello che riguarda Ad esempio I formaggi bandiera Dell'Italia Detto ciò In questo 2022 Come si prospetta La stagione Anche da un punto di vista Climatico Beh dunque Da un punto di vista Climatico Dobbiamo dire che Insomma Non è che si prospetti Tanto bene La prima cosa E manca l'acqua Questo freddo Sta bloccando Un pochino Diciamo Lo sviluppo vegetativo Speriamo Che arrivi al più presto Acqua E soprattutto Che arrivi il caldo A predominanza Delle graminace Rispetto alle guminose Per il primo taglio Che è la metà Diciamo A livello di introito Economico Dell'azienda E quindi Ospichiamo Che torni Caldo E soprattutto Acqua Ecco Da un punto di vista Economico Già due anni Che subiamo Un lieve calo Di un 15% Speriamo Ecco Di recuperare Questa Produzione E questi Questi valori Nella produzione Appunto Principe Nella cultura Principe Diciamo Delle nostre Delle nostre aziende agricole Ecco Tra l'altro Si prospetta Anche un elemento Positivo Attraverso L'approvazione Del Green New Deal Praticamente Viene fissata La neutralità Climatica Entro il 2050 E Rientra Questo fatto Di Ridimensionamento Degli insilati A favore Dell'alimentazione A secco E qui L'erba medica Assume Un'importanza Fondamentale E non dimentichiamo Che rappresenta Tra le foraggiere Anche le migliori Performance ambientali Quindi La pacca Anche questa Può dare una mano Sì Sicuramente Adesso abbiamo fatto Anche un convegno Il 10 di gennaio Con il professor Frascarelli E l'abbiamo fatto Proprio in virtù Di questo Le leguminose E soprattutto L'erba medica Godrà Di questi vantaggi Che appunto Inserisce La nuova pacca Per cui Ecco Se vogliamo L'erba medica È la cultura Che Nella nuova pacca Avrà uno sviluppo Maggiore Un sviluppo maggiore Dal punto di vista Sia di semi Per ettaro A livello nazionale Ma anche Penso Anche a livello economico Ecco Tra l'altro Qui ci troviamo Proprio Per anticipare Questa fiera Agriolo Nel territorio Collinare Di quest'area E vediamo Che L'erba medica Rappresenta Insomma La coltivazione Di questi pendi Può essere Fatto in piano A diverse tipologie E questo è Tra l'altro Un areale Tra quelli Di eccellenza Proprio per la produzione Riolo Secondo me È di eccellenza Sotto un duplice aspetto Innanzitutto Per la produzione Di prodotto Qui ci sono diverse stalle Sia da carne Più che altro Da carne Che si avvantaggia Proprio di un prodotto Autotono E poi Senz'altro Anche per Quello che riguarda La produzione Del semi Di erba medica Ricordiamoci Che noi Come Italia Siamo esportatori Per il 90% Di semi Di erba medica E Riolo Si è sempre Contradistinta Proprio per La qualità Delle produzioni Produzioni Che vengono fatte Più che altro In piedi Quindi viene Trebbiato in piedi E questo ne avvantaggia Molto il semi Che se ne produce Per cui Qui in queste Colline Faintine Quindi Da Riolo Andare su A Brisighella Casola Eccetera Qui c'è Una preservazione Del territorio Veramente molto importante Per me Riolo E tutta questa vallata Qui è Sicuramente Ce l'ho nel cuore Ecco proprio perché Il prodotto È di qualità Allora Ce l'abbiamo nel cuore Anche noi Perché finalmente Torna Agriolo In presenza E allora Andiamo a scoprire Quali saranno Le conferme E le novità Francesco Dal Monte Per il mondo Fatagri Questa bella Associazione di agricoltori Che organizza Agriolo Kermes Che ritorna In presenza In questo 2022 8 9 10 Aprile Segnatevi le date Allora Che cosa troviamo Nel menù di Agriolo È sempre stata Una grande eccellenza Diciamo Di persone Che Adesso viene da pensare Don Marino Con la schiusa Delle uova Le api Con tutto il suo lavoro Che è una cosa Eccezionale Il bestiame Diciamo Le macchine Diciamo Per la raccolta Dalle vendimitrici Agli ulivi Che adesso In questo momento Qui sta andando Molto alla grande Diciamo Le macchine Da estensivo Diciamo I prodotti tipici Tutte queste cose Che diciamo Una fira può offrire E Penso che non Deludiamo nessuno Poi abbiamo anche Diciamo Tutti i mesi d'epoca La storia Anche quest'anno Penso che abbiamo Qualche sorpresa Sono stati due anni Che purtroppo Molto duri Con il covid Ci hanno portato via Anche persone Molto importanti Vicino a noi Però Siamo qui Anche in loro memoria Di riuscire A fare Abbiamo molti giovani Che ci sono affiancati Credono tutti molto In questa fiera Devo ringraziare Tantissimo Gli sponsor Devo ringraziare Diciamo L'amministrazione Nel proloco Questo ci ha dato La forza Diciamo Di riprendere Perché Stare firmi due anni È stato veramente duro E quindi L'invito 8 9 10 Aprile Noi ci saremo E quindi Ci rincontriamo E racconteremo Il meglio Di questa Fiera Dell'agricoltura Del territorio romagnolo Ci fermiamo Solo un attimo Ma poi Ci rivediamo Nel finale di puntata